Le partecipate vanno efficientate, ma di certo non lo scopriamo adesso e chiaramente è un impegno che stiamo portando avanti fin dal primo giorno. Roma Capitale ha un debito di 15 miliardi, ADAC di un miliardo e mezzo, tanto per fare qualche esempio, ama di un miliardo. Di certo non è stato brutto negli ultimi sei mesi questo debito. L'Ore fa prezzo ai nostri sforzi per equilibrare i conti, ma dice che non sono sufficienti.